...e maturato perché dopo lo 0-3 di Scandici abbiamo fatto quattro partite in pochi giorni di un livello altissimo, venire a vincere due volte qua in stagione regolare dove Novara per anni non ha mai vinto, credo che sia un risultato straordinario. La partita di questa sera ha ricalcato, coraggimi se sbaglio, un po' l'andamento di gara 1, o in cosa secondo te è stata diversa? Noi abbiamo giocato più forte in controattacco rispetto a gara 1, siamo calati un po', nonostante fossimo avanti avessimo un vantaggio nel terzo set che era quasi finito perché 14-18 era un vantaggio grosso, siamo calati un po', però avevamo la consapevolezza di poter gestire la situazione, il quarto set è stato in equilibrio fino al 10, poi dopo siamo andati via e è andata via in scioltenza. Landizzerai con calma, neanche tanto con calma perché c'è subito l'impegno lunedì della finale, ma a caldo cosa ti senti dire? Quali sono state le armi che hanno permesso alla tua squadra di vincere? In queste due gare abbiamo giocato fortissimo muro difesa, questo secondo me ha fatto la differenza. Grazie mille.